La bellezza delle spiagge siciliane e agrigentine, nel caso che è stato sottoposto alla nostra attenzione, si trova spesso a fare appugni con l'incuria delle amministrazioni e anche con la poca civiltà di alcuni cittadini. Stavolta è l'associazione Mare Amico a segnalare qualcosa di increscioso nella zona di Maddalusa, una delle località balneari più caratteristiche del litorale sud della Sicilia, e lo ha fatto pubblicando su YouTube un video di oltre due minuti intitolato Terra di Nessuno, in cui vengono mostrati rifiuti di ogni genere abbandonate ai margini della strada che conduce alla spiaggia, oltre a un vero e proprio accampamento abusivo con tende e altre attrezzature installato sempre nella stessa area. Sulla spiaggia la situazione non sembra essere molto diversa, legna abbandonato un po' ovunque, sterpagli e arbusti che fanno bella mostra a due passi dal mare e naturalmente ancora rifiuti di ogni tipo, bottiglie, sacchetti di plastica pieni e vuoti, oggetti di plastica e via dicendo, oltre agli immancabili resti dei fallò di Ferragosto, lasciati senza problemi a due passi dall'acqua da chi ha trascorso la nottata in spiaggia.